Esprimo la mia personale solidarietà e la solidarietà di tutta Alternativa per l'Italia a Alexander Dugin. Ho condiviso con lui molte battaglie anche televisive in cui lui in particolare, anche io, ma lui in particolare veniva dileggiato per le sue opinioni di intellettuale russo molto colto che portava il punto di vista della Russia all'interno anche di trasmissioni televisive italiane. È stato dileggiato per questo, anche profondamente attaccato, insultato. Ora addirittura arrivano a uccidergli la figlia. Cominciamo a pensare davvero che si pagano prezzi enormi per avere idee difformi.